ciao a tutti oggi per festeggiare halloween anche se non è una nostra festa tradizionale vi propongo un dolce il semifreddo ai kaki il kaki appunto frutto tipico di questo periodo per la ricetta voglio ringraziare il mio chef preferito roberto ciao roberto grazie per per questa meravigliosa ricetta ora vi vado a presentare gli ingredienti e seguitemi con la preparazione sentivo un rumore va bene comunque nel frattempo volevo anche raccontarvi un po di c'è nessuno volevo anche raccontarvi un po a 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 ingredienti per il nostro semifreddo ci serviranno 200 grammi di polpa di kaki ben maturi quindi andremo a setacciare i nostriції abbi 7 tuorli e che andremo a montare con 150 gr di zucchero semolato o in alternativa è dello zucchero di canna un po' di liquore strega o comunque del liquore dolce a nostro piacere con cui aromatizzeremo il tutto, quattro albumi che andremo a montare a neve ben ferma e un litro di panna anch'essa da montare. Cominciamo con il passare al setaccio i nostri kaki, ben lavati ovviamente, togliendo la buccia e poi andiamo a montare i tuorli con lo zucchero e lo zucchero e andiamo a montare. Dopo aver privato i kaki della loro buccia andiamo a passare la polpa al setaccio, in questo modo terremo il succo. Ottenuti 200 g di succo di kaki, aromatizziamo con un po' di liquore, un po' di strega in questo caso e cominciamo ad unire, ad amalgamare tutti gli ingredienti. Ci uniamo subito i tuorli con lo zucchero che abbiamo montato. Ora uniamo gli albumi montati a neve e mescoliamo dal basso verso l'alto lentamente per far sì che gli albumi non si smontino. io ho versato il composto in una coppia più grande perché effettivamente mi sono resa conto che era un po' piccola. Ora un po' per volta ci amalgamiamo anche la panna montata. mescoliamo sempre dal basso verso l'alto. con questa dose escono parecchi semi freddi quindi nel caso potreste decidere di dimezzarla. potrete arricchire il composto aggiungendo dei pezzi di kaki all'interno. ovviamente questa base di semi freddo è ottima con qualsiasi tipo di frutta e le dosi rimangono le stesse. perfetto siamo pronti per versare il nostro semi freddo negli stampi io userò uno stampo in silicone con questo disegno particolare uno stampo da plum cake e se mi dovesse avanzare del composto lo verserò negli stampini monodose in modo da poterlo servire nei piattini. cominciamo con lo stampo in silicone andiamo a sistemare bene tutto il composto questo è pronto ora riempiamo lo stampo da plum cake e ora qualche pirottino in alluminio e ora tutto in fritter a rassodare per qualche ora. bene serviamo il nostro semi freddo in un piattino con un po' di salsa al cioccolato un po' di granella di noci sformiamo il nostro semi freddo qualche pipistrello di zucchero come decorazione ancora un filo di ganache buon halloween questo invece è il semi freddo dello stampo in silicone decorato con gli zuccherini a forma di pipistrello e la granella di noci se volete anche qui potrete aggiungere la salsa di cioccolato vi è piaciuto il semi freddo ci vediamo alla prossima ricetta ciao ciao